Sì, c'è qua. Tu si pigli dentro, però. E speruta, basta. Mamma, come c'è. E tu andai insomma la televisione. Papà, 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 ha vinto un'altra volta. Papà, come fa a vincere l'Inter? Papà, papà, papà. No, scatti di bro, frana, scatti di bro. La vita pure. Quest'anno mi vengono tutti i partiti. 103 punti mi fanno, ma che è un capo con i merda di Milano. Ci hanno aprito il culo, ci hanno aprito. E così va imparato a guffare. La squadra di merda, un'otena di merda ha fatto i bordi. Mizziti lì in bocca e vengono tutti i partiti. Lo pareggio è pure la roba di te. La vita pure. La vita è scattata. Come c'è? Mamma, come c'è? Così come si stia scattando. Ma tanto, 12 punti. No, sotto a 14 punti. I milanessi soprattutto. Ma cos'è? La faccio la vostra, questa qua. Stasi fino a 1997. Ma mamma, frattesi. Se io voglio frattesi, segna a sé. Una cosa incredibile. Frattesi, segna a sé. Monarca. Nella laico d'estate calmi che vinciamo al ritorno. E abbiamo vinto. E abbiamo vinto. E ve lo prendete? Del culo. Del culo. Del culo ve lo prendete. E quando è che l'interno lo vado per la lanza perché non me ne frega niente. Non me ne frega. La vita morì. Quello record è merda. Ma mamma, 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 mamma. E' rimasto scritto in derby. E' rimasto. E' rimasto. E' rimasto. E' rimasto scritto in derby. E' rimasto scritto in derby. So, non si, ma non se potrete andare a trovare. Meno male che ce l'ho salvato. La fai tu a trovare. Cosa ne pensi maestro? Che facciamo domani? Eatore, dice uno a uno. Uno a uno? Cidete uno a uno. Deveva questo ora che sono l'oracolo di Gelfi. Ora intro! Ora cover! Ele il culo. vado a trovare 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 non hai scampo vado a trovare lì comunque Lautaro Martini appena ha messo tutti i punti quando metto Arnauto però Lautaro e Turam mamma mia faccio forse a frangarritare la stagione comunque abbiamo scudelto poi ho toccato bene se ce ne voleva non è che mi a petto a niente non è che ci fossi i guadagini va a fa mocca a chi te va a fa a mocca a chi te se mag c'ha shoteva dove è da frattesi i fratti, dammi, sono due fratti, dammi chi avete una cosa qua? chi avete qua? chi vede qua? chi vede qua? e vede qua? vado a fare seno? vado a prendere un culo? tu è un rix con un faccio di merda là? questo botone da pazzesco? questo milano deve vincere un click di chiua qui quello invece trova una scritta visibilità non gli regalate più un click esiliatelo a quello là quello lo dovete abbandonare quello deve essere cancellato dalla faccia lo dovete bannare invece che li pigliate la visibilità mettete i problemi mettete questo botone quello avete esiliato quello di sprecchietto stronzio è che voglio fare a follower non avete capito? non lo interi, non lo mettete non lo mettete qui e fai secco, ma tu ma non lo sapete che vincere l'utilizzo del merda là, la partita tutti e uno c'è la rete è rotto il capo per prendere la sua parete tutti e uno c'è la rete per prendere la sua parete c'hai vedi? un portico di merda di cinque parete ha fatto ha fatto ha fatto mocca a chi è morto beh che dici? posso trovare? a chi ha trovato scritto la live? a chi ha detto perchè quando ha zecchietto sul tuo c'è la chietto monarco in cima di uno prima dice fate pure le donazioni state zitti e stasera fate le donazioni vi ho detto questo oggi abbiamo vinto lo scudetto questa è la vittoria scudetto stavano tutta annanzato io vi salto così i debiti l'indere e tu ma ti mangiare l'indere non ti devi scrivere e tu ma ti mangiare c'è 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 c' domani se vinciamo è scudetto devo solamente quando mi hanno chiesto maestro cosa ne pensi vediamo un po' allora vediamo domani se vinciamo è finito vediamo un po' maestro domani che ne pensi? maestro domani che ne pensi? sono un cazzo sono un cazzo c'è la nuova non vuoi mangiare? letale dal dischetto lì vedi hai visto? che trovo il vostro intanto voi continuate a mettere le iscrizioni donate a raffica perché io voto 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 Roger Moon lì vedi hai visto? vediamo ho gli fatto la previsione capito hai visto? ah cos'è? vince le facce è su Bologna su Bologna si vuole vince le facce ma che stia a scherzare? vince le facce capito niente come si è? ma che c'è a fare quello c'è sotto la madre ci tengono a dire una cosa tempo fa ho rivisto il vino in quel chiatto uè ho l'impressione di passare in svantaggio un attimo su ragazzi ho l'impressione di passare in svantaggio Daniele Gildone uè ho l'impressione di passare in svantaggio e l'abbiamo azzeccato tutti quanti in questa partita stavano a tirare i piedi i gufi e noi fa vedere Gildone ecco qua primo tempo per poi avere una certa difficoltà nel pareggiare e passare eventualmente in vanda oh Gildone però pure la gritta la stessa se entrava Lukaku se non entrava Lukaku la porta alla te ma quando ti ho fatto? la vita morì la vita morì il presidente mi manda i messaggi loro ci credevano loro ci credevano si facevano GK 11 punti 12 punti ma che derby per il 9 8 a 7 e sta sotto così è un ragazzo niente io l'ho detto ma non ci siamo capiti forse con Gildone vediamo sta sotto la macchia vediamo è così con il richiamo io non l'ho mai vista però non può fare come è qualcosa vedi ve che stia a scherzare? ma c'è affa qui? sto godendo, è inutile che mi guardate guardate li ho, sto godendo godo sta sotto la macchina stavate tutti a piangere i cari indiretri avete fiducia del maestro io ho chiesto la live di un monarco quindi state calmo vedi che sta sotto la macchina stiamo in crisi ragazzi ma noi in crisi e mica li facciamo tutti i partiti basta di svantaggiare più tempo per avere una certa difficoltà ne pareggia eh io te la stessa sensazione a tutti eccola qua la stessa sensazione tua ma qua non è un gatto maschio cosa sono sti numeri dati i numeri quanti passo? vuoi asci o no? poi niente vabbè comunque ragazzi c'è una nuova infallibile meno male che l'abbiamo pareggiata subito un gol veramente incredibile guarda quando la gente ci tira i piedi ci tira i piedi però è ancora più godurioso fra te si ragazzi è clamoroso ha fatto più gol di barella fra te sarà un altro ruolo è uno che va in aria di rigore incredibile è incredibile gran tiro di Lautaro palo e meno male che quello cornuto di Uppurti l'apparete pure quello Maradano con Uppurti Maradano con Uppurti come ha vinto un milano a Udine 3 a 2 avete vinto via avete vinto 3 a 2 in rimonta non c'è uno scurdo non c'è uno scurdo avete vinto 3 a 2 perdeva 2 a Udine prendiamo 1 a 0 a fine a Mesa Sanchez Arnautovi prima o poi nazione infatti Arnautovi c'entra nella Arnautovi c'entra nell'azione decisiva guardate bene guardate bene Arnautovi allora su questa vittoria ragazzi che è la vittoria Scudetto adesso mi perdo tutte le responsabilità di quello che dico questa è la vittoria Scudetto voglio 350 iscrizioni naturalmente potete anche supportare il canale se volete non siete obbligati con il super grazie visto che ci sono molti che mi seguono dall'Australia dall'America da qui e non si trovano mai nelle live c'è scritto sotto super grazie è come se donaste in super chat fate una donazione 5 di CEO quello sapete che poi sono spesi per beneficenza quello che guadagno è una cosa che so per tutto il tempo che spendo qua e per tutte le giorni che vi sto dando in questi anni vedete anche stasera primo tempo ho fatto il post su Facebook ve lo faccio vedere io non dico stronzate le avevo detto vedete che vi partite non fate non cantate vittoria tira piedi tira piedi e infatti e infatti infatti io non sto dicendo stronzate vi faccio vedere il mio profilo Facebook dove ho scritto alla fine è il primo tempo ve lo mettiamo in quel posto ecco vedete vedete un attimo solo vabbè vabbè questo ho fatto adesso vedi questi qua vabbè io devo innaffangula che cattivi milanese da me pure ci sono un mare di gufi attenzione che le partite durano 90 minuti mezzo di rimborta hanno fatto quelli scarpino da me alla fine alla fine godo ragione godo godo ragazzi godo forza inter forza inter ci vediamo in live dopo ragazzi godo come un porco godo come un porco e grazie a Dio la macchina volevo avvisare gli altri ma è la macchina c'erano due fori due ai manicotti quindi grazie a Dio fortunatamente la testata non è stata non è stata indagata quindi due notizie ottime due notizie ottime la macchina grazie a Dio si devono cambiare soli i due manicotti la perdeva l'acqua ma non si vedeva incredibile ma io ti andavo da un motore no no la macchina si accende a 4 ciletti si surriscaldava il motore ma io mi sono fermato in tempo ma io non mi prendo i manicotti non mi prendo i miei alessante delicato alessante facciamo la macchina che mi serve forza inter anche tutti i miei alunni che mi stanno guardando sapete che ne ho tanti tantissimi e ci vediamo dopo in live ragazzi purtroppo non mi dire niente sto veramente godendo sto godendo in una maniera si sto godendo sto godendo perché ragazzi chiudo perché sto avendo delle doglie devo andare a trovare la catta che sicuramente starà godendo anche lei iscrizione al canale ragazzi iscrizione raffica 350 iscritti tocchiamo i 22.000 passiamo le anni facciamo 1.000 iscritti non sei iscritto portassi tutti gli iscritti super chat se volete donare dopo ci vediamo in live per discutere di questa grande vittoria dell'Inter che vince meritatamente il ventesimo scudemono dice 19 più non la so vende al badere dice bene e vende so ciao sempre forse io ciao